Poi va a realizzare l'appunto del 6 a 2 Trova a buttarsi dentro, arresto, tiro, ti prende il canestro Angela Gianolla, il più 12 di Ragusa Se la vede con Premasuna, va Gianolla, viene in fondo ad appoggiare Gilean Armond Romeo intanto, dà 3 punti Assegno di Erika Eppi Da Consolini